buongiorno a tutti e bentornati su impara da vinci risolva è stato rilasciato un aggiornamento gigantesco della release 18 la 18.5 in realtà è ancora in versione beta però include tantissime ma veramente tante novità pertanto ho deciso di riprendere la pubblicazione di video sul canale dedicando un video ad ogni novità principale che è stata presentata nella 18.5 questo è il primo episodio tra virgolette se volete maggiori dettagli quindi maggiori video in merito alla release 18.5 e questi video li rilascerò giorno dopo giorno vi invito a iscrivervi alla community premium all'interno del mio sito www.andrealucchitrainer.it qui su youtube vedremo nel corso dei prossimi giorni le principali novità introdotte e dedicherò un video specifico per ogni novità ecco una grande raccomandazione prima di aggiornare la 18.5 che essendo in versione beta potrebbe anche presentare delle problematiche di stabilità eccetera fate un backup di tutto quello che avete su resolve quindi backup di library backup di progetti eccetera mi raccomando perché poi dopo non riuscite più a tornare indietro se avete dei progetti aperti che dovete consegnare aspettate prima di aggiornare concludete i progetti e poi aggiornate se invece non avete dei progetti chiamiamoli impellenti attivi in questo momento potete provare ad aggiornare sempre però backupando tutto quello che è possibile detto questo partiamo con il primo tutorial di questa serie dedicato a una novità interessantissima che va a riprendere quello che fa uno dei principali concorrenti di resolve in merito alla trascrizione di una clip quindi una generazione di un testo sulla base dell'analisi puntuale dell'audio di una clip dopo aver installato la 18.5 public beta vi comparirà sempre in fondo a sinistra della vostra interfaccia sulla barra della page navigation la denominazione corretta della versione attuale bene sono in edit page e vediamo la funzione di trascrizione sia a livello di media pool sia a livello di timeline partiamo a livello di media pool prendiamo questa prima clip la ascoltiamo un attimo velocemente visto che anche piuttosto corta bene allora adesso prendiamo la nostra clip facciamo tasto destro qui di menu contestuale della clip e troviamo una funzione che si chiama transcribe audio allora preciso subito questa funzione utilizza il da vinci neural engine quindi il motore di ai di resolve pertanto è disponibile come per tutti gli effetti e tutti i tool che utilizzano il motore di intelligenza artificiale è disponibile solamente nella versione studio quindi per chi ha la versione free non si troverà la transcribe audio bene facciamo la trascrizione cliccando su transcribe audio a seconda della lunghezza della clip ci vuole più o meno tempo adesso è stato velocissimo perché la clip è cortissima nel caso di clip molto lunghe naturalmente è sempre in funzione della capacità di calcolo della vostra macchina potrebbero essere necessari anche alcuni minuti allora cominciamo a vedere che cosa ha fatto facciamo il play quindi al netto della intro iniziale che andrà tagliata poi in timeline questa è la parte che è veramente interessante della nostra trascrizione quindi se adesso seleziono la mia area e faccio invece di fare il play normale il play in to out lui mi riprodurrà solamente l'area selezionata bene possiamo anche ingrandire o diminuire la dimensione del testo quindi per renderlo più evidente o meno evidente posso cambiare il contrasto quindi utilizzare uno sfondo bianco se mi piace avere un contrasto di questo tipo posso andare ad esportare il mio testo quindi faccio export quindi magari lo posso inserire all'interno di questa struttura vedete che si chiama interview 01 text quindi è un txt transcription file col nome della clip faccio save posso andare a cercare dei testi all'interno della mia transcript quindi ad esempio vado a cercare la parola possible invio e viene fuori quante volte la parola possible compare all'interno del mio testo ed eventualmente posso andare avanti o tornare indietro di un'istanza sempre della parola possibile io posso andare a mettere un marcatore su questo punto quindi faccio add marker e adesso un marcatore viene messo sulla clip a quel punto lì se faccio il play sul source vedete che parte esattamente dal di lì potrei andare a mettere un marcatore anche su una sezione precisa making all thing possible e vedete che viene messo il marcatore sul marchine mark out cioè sulla selezione che ho all'interno della transcription ad esempio prendo how to airplane change viene messo un marchine mark out automaticamente sulla clip e quindi fisso un marcatore sulla clip add marker è un po' come andare sulla selezione mark in out tasto destro e convert in out to duration marker quindi è un po' la stessa identica cosa bene una volta che ho fatto la mia trascrizione posso anche andarmi a creare una sub clip sulla base del marchine mark out quindi change the world it was really important to go out and shoot the real world facciamo create sub clip create ecco che viene creata una sub clip che utilizza il marchine mark out specifico che avevamo creato quindi una clip secondaria basata su marchine mark out attualmente selezionato posso andare a inserire la porzione attualmente selezionata in timeline quindi faccio insert e vedete che viene inserito il marchine mark out direttamente sulla timeline oppure posso fare un append cioè lo posso accodare alla coda della mia timeline queste sono le operazioni che posso fare a livello di media pool quindi sulla base dell'analisi del testo io riesco ad andare a costruirmi una struttura di montaggio analizzando il dialogo quindi è un altro modo per poter fare ad esempio una costruzione di montaggio provvisorio poter mettere dei marcatori all'inizio della battuta in modo tale da poter poi sincronizzarli con gli eventuali altre tracce sonore eccetera ecco una volta che io ho creato le transcription vedete che compare il simbolo di transcription esistente sulla mia clip quindi vuol dire che questa clip ha già una transcription associata allora adesso andiamo a prendere questa clip azzeriamo il marchine mark out questa la mettiamo in timeline e inseriamo anche questa in timeline adesso le potrei anche tagliare ad esempio andiamo qui tagliamo questo pezzo quindi andiamo in trim tagliamo questa zona ok prendiamo questa clip tagliamo qua andiamo un po' avanti tagliamo qui ok ok qui facciamo un ripple delete per cancellare l'interno questo è il nostro montaggio bene come possiamo sfruttare adesso l'audio ad esempio del nostro montaggio per andare a creare dei sottotitoli andiamo sulla timeline e andiamo a cliccare su create subtitle from audio adesso qui abbiamo lingua inglese selezionata caption preset usiamo un default o preset prestabiliti teletext netflix usiamo il default e facciamo quanti caratteri per linea quindi va bene stiamo a 42 caratteri lasciamo questa impostazione e facciamo create viene analizzato l'audio delle mie clip in timeline e vengono automaticamente inseriti i subtitle nelle posizioni corrette in questo film in questo film making a documentary about how the airplanes changed the world it was really important to go out and shoot the real world and how the airplane is connecting and making all the things possible that I want to convey in the film all seven continents 18 countries it was very important that everything was real right we would either go back to that location stay at that location longer or it didn't make the movie it was really important every shot was original and that everything was real but there's a few things only three or four shots in the whole film that are impossible perfetto naturalmente possiamo andare a modificare i singoli sottotitoli ad esempio questo I lo possiamo portare nel sottotitolo successivo quindi rientriamo nel nostro sottotitolo cambiamo il testo e poi andiamo su quello successivo e andiamo a inserire I in questa posizione e poi naturalmente qui abbiamo tutti i parametri di personalizzazione dei miei sottotitoli sia a livello di traccia sia a livello di caption quindi di singolo sottotitolo quindi posso decidere io come andarlo a personalizzare per font, colore, presenza del background eccetera quali sono le limitazioni per il momento in questa beta della 18.5 sono fondamentalmente due la prima è che se vado nel transcript quindi vado a prendere la mia trascrizione dell'audio non posso andare a correggere direttamente qui renderla editabile eventuali errori di trascrizione magari legate alla lettura di un nome eccetera eccetera la seconda cosa forse per noi italiani più vincolante è che questa funzionalità è attiva per il momento solo per la lingua inglese questa può essere una limitazione grossa perché se vado a inserire un audio in italiano quello che mi propone la transcription è una traduzione in lingua inglese del mio audio in italiano chiaramente con tutti gli errori del caso si spera che il supporto per altre lingue che non siano quelle inglese venga inserito al più presto però già di suo questa potrebbe essere una grossa innovazione che va a pareggiare quello che fa come vi dicevo all'inizio di questo video uno dei principali concorrenti di Resolve